Lo hanno ritrovato in cattive condizioni fisiche, denutrito, malato, gli occhi gonfi per l'ipercheratosi dovuta a scarsa cura, sprovvisto di micro-C, per in un'area recintata dal bano laziale ai castelli romani. Un cavallo pony è stato salvato grazie ad una segnalazione al 112 che ha portato all'intervento dei carabinieri della locale stazione e del personale del servizio veterinario dell'Asda RM6. Il cavallo è stato sequestrato ed è stato affidato a un'associazione animalista di Latina. Sull'episodio i carabinieri hanno inviato un'informativa alla procura di Velleteri con l'ipotesi di reatto di maltrattamento di animali a carico del proprietario del terreno che ora rischia al carcere perché è prevista in questi casi la reclusione da tre mesi a un anno o la multa da 3.000 a 15.000 euro per chiunque per crudeltà o senza necessità cagiona una lesione a un animale o lo sottopone a servizio, a comportamenti o a fatiche e lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche.